non so cosa st kyseri? no allora veramente la fine non sopra di farlo sull'ate a farlo di sotto perché la fine non sopra sentiamo davvero non mette le cani e la fine non sopra le campagne가 li piazzate e la fine non sopra ho lasciato la massa la fine non sopra quando i passano con la fine non sopra non so se stanno capire OH SHUTTENU BAK AND DEZ Grazie a tutti.